Buon abitacolo, ieri consiglio comunale, agenzie delle entrate, ente di riscossione, l'amministrazione a caccia degli evasori. Fondi danni fauna, fuori Polla e Sant'Arsegno, dalla comunità montana Tanagro Alto e Mediosele, chiedono la revisione degli ambiti territoriali. Caggiano, convenzione tra comune e società che gestiscono ripetitori radio e tv per la delocalizzazione. Sanza, la piazza laterale alla casa comunale intitolata D'Angelo Ciorciari, questa mattina la cerimonia e ricordo dell'eroe della Seconda Guerra Mondiale. 17 e 18 agosto torna Sant'Arsegno il brigante Tittariello, il vicepresidente della Proloquo Antonio Vancolle, programma ricco di storia. Buonasera e ben ritrovati alle notizie di Uno News. Non si ferma l'attività dell'amministrazione comunale di Buon Abitacolo, guidata dal sindaco Giancarlo Guercio, neanche in questo caldo mese di agosto. Un'attività senza sosta per cercare di ridurre il rischio del dissesto del comune con azioni finalizzate al recupero di entrate per le casse comunali. Ieri nel Consiglio Comunale è stata scelta l'Agenzia delle Entrate come ente deputato alla riscossione dei tributi. E noi abbiamo raggiunto telefonicamente il sindaco Giancarlo Guercio. Sentiamolo. Sì, ci sono situazioni veramente delicate, quelle che abbiamo riscontrato e che vengono da anni di malagestio, una gestione veramente raffazzonata e cattiva che oggi paghiamo come conseguenza. Noi eravamo consapevoli già in campagna elettorale nei mesi scorsi e sì, stiamo facendo un grande lavoro per tentare di mettere in ordine i conti. È davvero un'operazione difficile, però crediamo che se il popolo di buon abitacolo ha optato per il nostro gruppo, forse da noi si aspetta proprio un'azione forte e impegnativa che avrà ripercussione a 360 gradi ed è inevitabile. Stiamo tentando di evitare il più possibile il dissesto economico dell'ente perché vogliamo evitare appunto di portare il comune di buon abitacolo alla condizione del fallimento. Lo stiamo facendo adottando misure restrittive e anche impegnative che riguardano i cittadini, riguardano il personale dell'ente, riguardano le opere pubbliche e beni pubblici. Ieri sera durante il Consiglio Comunale che si è svolto nella seduta di ieri abbiamo adottato una misura molto forte nei confronti degli evasori. Purtroppo una delle voci più incisive del bilancio comunale è determinato proprio dai morosi che superano i 350 mila Euro e questo va a contribuire in maniera seria sul debito che ha il comune di buon abitacolo. Ieri sera abbiamo individuato nell'Agenzia delle Entrate quello che sarà l'ente di discussione dei morosi, insomma dei tributi morosi e accanto all'Agenzia delle Entrate individueremo tramite strumenti ufficiali, individueremo un'agenzia di accertamento che collaborerà con il nostro ufficio tributi e individuerà appunto tutti gli utenti morosi. Perfetto, poi ieri sera si è parlato anche di altro, si è parlato di quello che è il tema principe di questo anno, il problema della risorsa idrica. Sì, siamo in prima linea, abbiamo individuato una perdita sensibile molto seria nel territorio di Montesano Scalo e abbiamo provveduto a certificare la perdita e quindi sappiamo che in quel punto va fatto un intervento serio e realizzeremo molto probabilmente un bypass. Dalla Regione Campania nei giorni scorsi è arrivata la conferma dello stanziamento dei fondi che serviranno a realizzare interventi utili a mitigare la crisi idrica che purtroppo vige anche appunto in Regione Campania. Sentiamo Rosa Romano. L'Aggiunta regionale della Campania nei giorni scorsi ha dato il via libera allo stanziamento dei fondi che serviranno a realizzare interventi utili a mitigare l'emergenza idrica. Alla consa che seppia viene accordato quanto richiesto per i lavori proposti. 200.000 euro per la posa di una condotta premente fino ai serbatoi alti di Spani e Santa Marina, oltre che per la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento nel Comune di Spani. Subito dopo la conferma da parte della Regione, dicono dalla società, è stato dato seguito a quanto annunciato precedentemente. Sono partiti tali lavori che interesseranno anche i comuni di Casella in Pittari e Morigerati. Sono i comuni maggiormente colpiti dalla crisi. Tra gli interventi da realizzare con i fondi della Regione, alcuni interessano anche il Vallo di Diano. 232.000 euro andranno spesi per gli impianti di sollevamento nei comuni di Sapri, Rocca Gloriosa e Sassano Fontanelle, dove è prevista la sostituzione di apparecchiature obsolete. Mentre per gli impianti di sollevamento di Silla, di Sassano e Teggiano, è prevista la sostituzione di una cabina. 400.000 euro andranno per la realizzazione di pozzi per la captazione della sorgente Faraone, altri 400.000 per l'installazione di un impianto di potabilizzazione a Casella in Pittari e 150.000 per il raddoppio dell'impianto esistente ad Ascea. Un ulteriore finanziamento di circa 7 milioni di euro, dicono dalla CONSAC, dovrebbe essere stanziato a breve per il risanamento dell'aduttrice del Faraone e per la realizzazione di nuovi impianti a favore dei comuni di Pollica, Serra Mizzana, Monte Corice, San Mauro Cilento e Stella Cilento. È stato ritrovato a Salerno l'uomo di 47 anni, di Teggiano, che si era allontanato da casa soltanto due giorni fa. Allertati i carabinieri della locale stazione, sono state avviate le indagini del caso per intracciare il Teggianese nei pressi dell'ospedale San Leonardo a Salerno. Il 47enne è stato poi riportato a casa e sta bene. Nello scorso mese di giugno invece è stato pubblicato il bando per la richiesta di fondi destinate alla realizzazione di opere per la prevenzione contro i danni della fauna selvatica e come cinghiali e lupi. Il bando poi ha previsto anche l'individuazione di ambiti territoriali che possano presentare le domande. Esclusi invece i comuni di Polla e di Sant'Arsenio, come risultano esclusi anche diversi comuni ricadenti nella comunità montana Danagro Alto e Mediosele, che però ne ha richiesto l'inserimento. Sentiamo Anna Maria Cava. Lo scorso 13 giugno la Regione Campania pubblica il bando per la richiesta di finanziamenti per interventi atti a prevenire danni da fauna al settore agricolo locale. Un bando che consente agli agricoltori di richiedere il sostegno finanziario per poter realizzare interventi atti a prevenire danni da lupi e da cinghiali come la realizzazione di protezioni meccaniche con recensioni perimetrali con o senza protezione elettrica a bassa intensità oppure recensioni individuali shelter in materiale plastico. Il bando viene però riservato solo a determinati territori della Regione Campania. Possono infatti presentare richiesta di accesso ai fondi soli proprietari di terreni ubicati in alcuni comuni e che risultano aver subito nel quinquennio 2010-2014 danni provocati da lupi e cinghiali. Il testo evidenzia come negli ultimi dieci anni si è verificata una rinaturalizzazione delle aree collinarie e montane del territorio campano con un aumento della fauna selvatica. Da qui la decisione di destinare parte delle risorse del piano di sviluppo rurale 2014-2020 per la realizzazione di interventi di prevenzione dei danni. Non tutto il territorio campano può aderire al bando. È stato infatti stabilito un ambito territoriale di intervento che per quanto riguarda il Vallo di Diano vede esclusi comuni di Polla e Sant'Arsenio. Nei due comuni infatti non risultano essere stati rilevati negli anni che vanno dal 2010 al 2014 danni da cinghiali o lupi. Quindi la Regione Campania non ha inteso inserire terreni che insistono nei due territori comunali tra i possibili beneficiari dei fondi europei contro i danni da fauna. La decisione della Regione di circoscrivere le aree di intervento e di escludere alcuni comuni perché non interessati dai danni provocati dalla fauna nel periodo antecedente al 2014 ha spinto la comunità montana Tanagro Alto e Mediosele ad intervenire e a chiedere l'inserimento anche dei comuni che rientrano nell'ambito dell'ente montano preseduto da Giovanni Caggiano inizialmente esclusi. La nota, a firma dell'assessore della comunità montana Antonio Addesso, chiede l'inserimento tra i comuni che possono beneficiare dei finanziamenti anche Auletta, Colliano, Palomonte, Oliveto Citra e Laviano, evidenziando come negli ultimi anni e ancor più negli ultimi mesi i casi di danni da fauna selvatica alle coltivazioni si sono ulteriormente intensificati. Per adesso quindi è assurda l'esclusione di comuni che hanno subito comunque ingenti danni, seppur magari in periodi diversi dal 2010 al 2014, unico periodo preso come riferimento dalla regione Campania. Così come è accaduto per i comuni di Pollo e Sant'Arsenio che comunque potrebbero essere interessati dei fenomeni visto che i comuni confinanti come San Pietro Altanagro, Pettina e Pertusa sono invece stati inseriti. Questa mattina a Tatiana Lucana si è sviluppato un incendio e ancora una volta si sono sprigionate fiamme tra la vegetazione provocandone così la distruzione. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco. Sentiamo. Ancora fuoco ad Atena Lucana, si può davvero parlare di estate rovente. Da diversi giorni il vice sindaco Sergio Annunziata è costretto a denunciare casi di incendi che spesse volte purtroppo vanno ad interessare la vegetazione boschiva anche in aree che possono provocare pericolo per le persone. Oltre alle fiamme di domenica scorsa, spente grazie anche al pronto intervento dei cittadini che come raccontato dallo stesso vice sindaco si sono prodigati per lo spegnimento delle fiamme e per circoscrivere i danni insieme ai vigili del fuoco e ai volontari che si sono adoperati con un mezzo comunale. Ora l'incubo torna. Questa mattina ancora fiamme ad Atena Lucana con i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consina che sono giunti sul posto con estrema celerità riuscendo così in breve a mettere in sicurezza l'area. A denunciare peraltro in maniera forte l'ennesimo caso di incendio Sergio ha annunziato che anche questa mattina era sul posto per verificare i danni e per assicurarsi che non vi fosse pericolo per le persone. Le fiamme infatti si sono propagate a ridosso di un'arteria stradale creando pericolo per i veicoli in transito. Fortunatamente nessun danno per le persone mentre non si può dire altrettanto per la vegetazione che continua ad essere distrutta aumentando i rischi di discesso idrogeologico e di frane. L'intervento dei caschi rossi di Sala Consina nel comune di Atena segue l'intervento di ieri quando a prendere fuoco è stato un fuoristrada parcheggiato in pieno centro storico. Fortunatamente anche nel caso di ieri l'arrivo immediato sul posto dei vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a spegnere le fiamme divampate dal veicolo in sosta ha evitato danni e pericoli più gravi. Restiamo sempre ad Atena Lucana. Ancora un veicolo in fiamme. Ieri pomeriggio un'auto di grossa cilindrata ha preso fuoco mentre era parcheggiata lungo una stradina del centro storico che conduce dall'hotel Villa Torre Antica e che si colliega con la chiesa di Santa Maria Maggiore. Questa mattina invece un camion ha preso fuoco lungo la strada che da Atena Lucana porta a Brienza nei pressi di un distributore di benzina. Fortunatamente come ieri il proprietario né altre persone sono rimaste coinvolte. Fondamentale anche oggi l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. E sempre a proposito di cronaca invece a Marina di Camerota sono stati sequestrati 8 parcheggi abusivi e sono state denunciate 12 persone per occupazione di suolo demaniale e deturpamento dell'ambiente. L'operazione dei carabinieri è scattata ieri mattina dopo il distaccamento di un grosso masso che aveva distrutto l'auto di un turista posta proprio nei pressi di quel luogo. Per le persone denunciate poi sono state elevate sanzioni per esercizio abusivo di parcheggio. Ieri quei posti sono stati anche sequestrati. E saranno delocalizzati invece gli impianti e le antenne radio tv del centro storico di Caggiano stipulata la convenzione tra comune e società gestori che porterà alla sistemazione di stade e di altre opere pubbliche. Ma sentiamo Giuseppio Promolla. A breve non costituiranno più alcun problema i tralicci e i ponti di ripetitori che trasmettono il segnale di alcune emittenti televisive radiofoniche presenti nel centro storico di Caggiano. Infatti con apposita convenzione stipulata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Caggiano avverrà la delocalizzazione delle antenne dei ripetitori dal centro storico e saranno sistemate contestualmente strade e altre aree pubbliche. L'accordo porterà le emittenti ad eseguire lavori complessivi per un valore di circa 20.000 euro per sistemare la strada di accesso all'area tecnica individuata per l'installazione di antenne ripetitori in località a Ringo e ad implementare le attrezzature e gli arredi a servizio dell'area di sosta del camper di Martin Luther King e a fornire un forno a gas per il laboratorio di trasformazione dei prodotti orsofrutticoli sito in località Mattina. A fronte di tutto ciò il comune consente a mantenere sulle aree di proprietà comunale gli impianti. Non si tratta di una prima convenzione di questo genere tra lente comune ed emittenti. Infatti in passato un'emittente radiofonica ha sistemato il parco giochi e realizzato l'area per la sosta dei camper in piazza Martin Luther King in cambio della possibilità di installare alcuni ponti ripetitori. Questa mattina momenti di commozione a Sanza, ricordo dell'eroe scomparso nel 1943 durante le quattro giornate di resistenza a Napoli. Scoperta la targa commemorativa posta nella piazzetta che da oggi prende il nome di piazza Angelo Ciorciari. Vediamo. Nel 1943, a 20 giorni dall'armistizio, ancora con la divisa addosso, un giovane di Sanza si immolò per la liberazione della patria dai tedeschi. Questa mattina la comunità sanzese ha voluto imprimere nella memoria il gesto eroico della viere scelta automobilista Angelo Ciorciari con l'intitolazione a suo nome della centralissima piazzetta antistante la casa comunale. Il suo gesto e il suo coraggio sono stati riportati alla luce dall'aeronautica militare presente alla cerimonia, che ha voluto realizzare uno studio storico in cui sono state raccolte le geste eroica dei suoi militari, raccontando ed evidenziando in particolare il gesto di Angelo Ciorciari nel libro Prima dell'oblio, le quattro giornate di Capodimonte e la viere ritrovato. Dopo che abbiamo individuato con nome, cognome, date questo atto, abbiamo cercato di scrivere qualcosa per lasciare alla storia proprio questo atto di questa persona durante le quattro giornate di Napoli e con delle informazioni che abbiamo cercato siamo riusciti a scrivere questo libro per poi lasciarlo ai posti. Noi praticamente dell'aeronautica diciamo che è la nostra proprio funzione di militari e anche di persone, praticamente è questo atto che Angelo ha donato con la propria vita contro i tedeschi, diciamo, noi siamo orgogliosi di questo e siamo qui proprio per fare questo saluto e questa commemorazione per la lapide. Angelo Ciorciari aveva appena 24 anni quando fu catturato dai tedeschi e fucilato nelle campagne di Capodimonte dove è stato seppellito il suo corpo per poi essere istituiti i resti ai familiari a Sanza negli anni 70. Dopo lo scoprimento della targa la cerimonia è proseguita presso il cimitero di Sanza dove sono custoditi i resti mortali di Angelo Ciorciari per rendere omaggio all'eroe insieme ai suoi familiari. Io sono felicissimo, sono un po' emozionato però, non l'ho conosciuto perché lui è morto il 43 e io sono nato il 50 ma ne parlavano tutti i giorni perché era un figlio e quindi in famiglia se ne parlava tanto però nella confusione che non si sapeva se era Capodimonte perché mi parlavano sempre di Capua e quindi dice vai a trovare perché dice che l'hanno sotterrato in un giardino di una fidanzata. Quindi dico sì ma Capua dove va senza indirizzo. Poi grazie all'aeronautica e a questi di Napoli che in effetti fanno parte dell'aeronautica hanno scoperto quindi poi hanno indagato, hanno preso tutte le notizie e quindi è venuto fuori questo fatto qua. Cosa spera che rimanga di lui nelle future generazioni perché lui è comunque un esempio per le future generazioni? È un segnamento per chi viene perché se non si sa il passato non possiamo avere un futuro, un qualche cosa che deve rimanere. L'appuntamento è poi proseguito presso il Centro di Educazione Ambientale di Sanza per il convegno dedicato alla presentazione del libro dell'aeronautica militare in cui viene raccontato con dovizia di particolari il gesto eroico della via di scelto automobilista. Un gesto che per l'amministrazione comunale deve essere d'esempio per i giovani affinché comprendano bene il significato della parola libertà come sottolineato dal sindaco Vittorio Esposito. Penso che sia un esempio calzante in questo momento di sovvertimento di tutti i ricordi che ci sono di chi ha combattuto per la libertà come Angelo Giorceri, per tanti giovani che si sono immolate per la libertà in un momento particolare come questo e un molito a tanti giovani che della libertà ne stanno facendo un cattivo uso. Cattivo uso perché penso che la recrudescenza di ideologie nazifasciste che ci sono un po' in tutta Europa è un monito a ricordare per quanto questa libertà così cara ci sia stata regalata col sacrificio di tanti giovani. Da oggi quindi la piazzetta antistante alla Casa Comunale ha un suo nome, Piazza Angelo Giorceri. E adesso invece ci separiamo per qualche minuto di pubblicità, ritorniamo subito dopo con la seconda parte del telegiornale e con tutte le altre notizie. Ben ritrovati alla seconda parte del telegiornale, il Museo Lapidario a Dianiese si amplia con un inedito catalogo scientifico realizzato dall'architetto Marco Ambrogi che propone il racconto della raccolta lapidaria con le schede di catalogo delle opere esposte a una sezione interamente dedicata alle vicende del complesso architettonico di San Michele Arcangelo di Teggiano. Vediamo. Si arricchisce di un inedito catalogo scientifico il Museo Lapidario di Anese. L'opera finanziata dalla diocesi di Teggiano Policastro è stata realizzata dall'architetto Marco Ambrogi ed è pubblicata all'interno della collana i quaderni del Museo Diocesano. Un nuovo tassello per la raccolta d'arte tegianese. Ottava produzione a stampa dell'Istituto Culturale, il volume propone il racconto della raccolta lapidaria con le schede di catalogo delle opere esposte e una sezione dedicata alle vicende cronologiche e artistiche del complesso architettonico di San Michele Arcangelo di Teggiano che racchiudeva un tempo ben cinque luoghi di culto tra cui la cripta di Santa Venere e la cappella di Sant'Eligio all'interno della quale trova spazio il Museo Lapidario. Leggendo il volume si scopre la complessa e stratificata esperienza storica di artistica di Teggiano grazie alla persistente presenza nel corso dei secoli della tenace e lavorabile pietra locale, un calcare che ne ha permesso la costruzione della città, delle sue architetture e degli ornamenti che l'hanno arricchita. La presentazione del volume è affidata al vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, da Don Fernando Barra, direttore dell'ufficio beni culturali diocesano e Don Giuseppe Puppo, parroco della cattedrale, mentre l'opera di corredo fotografico del catalogo dal titolo Memorie di Pietra, il lapidario dianese del Museo diocesano di Teggiano è stata organizzata e prodotta dalla fotografa Martina Casella in collaborazione con lo staff del museo. A breve poi a questo catalogo a stampa si aggiungerà una nuova opera per la descrizione e la storia della Cappella Francone al Museo diocesano. Il meeting del Cervati dopo diversi anni di assenza torna nel 2018. Intanto il prossimo 14 e 15 agosto il Comune e la Proloco di Sanza hanno organizzato aspettando il meeting del Cervati. Sentiamo. 14 e 15 agosto appuntamento sul Monte Cervati per vivere due giorni tra natura, musica, politica ed enogastronomia. 150 ragazzi della neocostituita Proloco di Sanza con il patrocino del Comune hanno organizzato aspettando il meeting del Cervati. Si parte il 14 alle ore 18 con la tavola rotonda Il futuro delle aree interne. Moderata dal direttore di Quasi Mezzogiorno Lorenzo Peluso, con ospiti il presidente del GAL Vallodidiano Attilio Romano, il direttore generale della BCC di Buonabitacolo Angelo De Luca, il sindaco di Sanza Vittorio Esposito, il presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallodidiano Alburni Tommaso Pellegrino e l'onorevole Tino Iannuzzi. Si prosegue con il momento di confronto Spazio Giovani. Tocca poi alla musica, quella popolare con il concerto dei Sibenga Sunamo. Il giorno seguente sarà dedicato alla natura, al territorio e all'enogastronomia, con escursioni e degustazione di prodotti tipici. Un'edizione di preparazione al ritorno del meeting del Cervati, ha commentato il sindaco di Sanza Vittorio Esposito. Dopo cinque anni di assenza, un'edizione per scaldare i motori, questa del 2017. Abbiamo voluto dare l'occasione a questi tanti giovani e alla volontà della Prologo di riportare sul Cervati due giornate di festa, due giorni di condivisione, confronto e discussione, ma soprattutto tanta buona musica e gastronomia. Un'edizione di preparazione a quella del 2018, quando ritornerà nel pieno della sua impostazione originaria. Il meeting del Cervati, che conclude Sposito, deve ritornare ad essere un laboratorio di confronto sulle politiche delle aree protette in Italia. Sulla rivocazione storica secentesca, il brigante Tittariello, in programma i prossimi 17 e 18 agosto a Sant'Arsenio, abbiamo sentito il vicepresidente della locale Prologo, Antonio Vancolle. Sentiamolo. Io sono venuto proprio per illustrare un po' il programma e per invitare tutti a partecipare a questa rivocazione storica di Sant'Arsenio, che riguarda un personaggio storico di Sant'Arsenio, un personaggio un poco controverso, però un personaggio vero di Sant'Arsenio, che è vissuto ed era originario di Sant'Arsenio. Era un brigante che si chiamava Tittariello, il nome d'arte, però si chiamava Vricella, ed era originario di Sant'Arsenio. Combatté per degli ideali, diciamo che era un brigante sui generis. Fu disperso, la sua banda fu dispersa dall'esercito reale e di Tittariello si persero le tacce. Quindi era stato un personaggio anche romantico nella storia di Sant'Arsenio e del territorio, ma un personaggio, un brigante che non era un brigante nel modo tradizionale della parola, era un brigante che aiutava un po' il suo popolo, la sua popolazione, perciò era stato caro nella storia di Sant'Arsenio. A Sant'Arsenio ci sarà questa rievocazione di due giorni, è l'ennesima edizione, quella del 2017, perché questa manifestazione è oramai a parecchi anni di vita. Io invito tutti a partecipare. Il percorso impegnerà tutto il territorio di Sant'Arsenio. Sant'Arsenio per la sua vocazione, non perché sono di Sant'Arsenio, ma credo che sia il paese più ospitale, più accogliente del Vallo di Diano, per la posizione geografica, per la popolazione e per il luogo. Il percorso praticamente parte dalla piazza di Sant'Arsenio e ripercorrerà il centro storico di Sant'Arsenio per arrivare al Serrone. Il Serrone è il cuore antico di Sant'Arsenio, era il vecchio centro abitativo di Sant'Arsenio e praticamente si concluderà sul Serrone. Quindi Tittarello ebbe una vita avventurosa e finisce in modo avventuroso. Auguri a tutti i partecipanti e benvenuti a Sant'Arsenio per il giorno 17-18. E adesso invece lo sport. Domenica prossima alle 20.30 torna in campo la Salernitana per il terzo turno di Coppa Italia dopo la vittoria contro l'Alessandria. Nonostante la formazione rimaneggiata a causa delle indisponibilità. Ben diversa invece la prospettiva per le gare di domenica allo stadio Cabassi dove Mr. Bollini potrà contare su importanti rientri per affrontare così i carpi di Mr. Calabro. Sentiamo. Dall'emergenza all'abbondanza. Nel giro di pochi giorni cambia la prospettiva per Alberto Bollini che in attesa di buone nuove dal mercato può contare sul rientro di alcuni calciatori che hanno saltato la gara con l'Alessandria. In difesa tornerà a disposizione Luigi Vitale assente per squalifica contro i piemontesi e sostituito da Mantovani e Pucino, protagonisti di una staffetta su Sestu in occasione della gara di domenica sera alla Rechi. A carta invece Pucino giocherà a destra e Vitale a sinistra ricomponendo la coppia di terzini su cui la società ha deciso di puntare per questa stagione. A sinistra manca l'alternativa di ruolo e Bollini attende novità quanto prima ma almeno a Carpi potrà testare la tenuta della linea difensiva titolare che sarà completata al centro da Tuia e Bernardini. In mediana il tecnico potrebbe ritrovarsi con più soluzioni tra cui scegliere visto che Della Rocca assente dell'ultimo minuto contro Alessandria si è ristabilito ed anche Minala potrebbe finalmente essere arruolabile una volta risolti i problemi contrattuali. Se contro Alessandria le scelte iniziali erano state pressoché obbligate, a Carpi Bollini potrà sperimentare anche qualche soluzione diversa. Della Rocca andrà in ballottaggio con Signorelli per il ruolo di playmaker mentre Ricci è l'unico sicuro di una maglia tra le mezze ali. In attacco invece il tridente, Rosina, Boccalone e Sprocati sarà riproposto al fine di perfezionare intese movimenti e consolidare il feeling con il gol. Grazie a tutti.